Per il Nardò, che nel finale sta trovando qualche energia per reagire a una partita veramente brutta. Alla bandierina, palla ancora bassa, gira Rescio! E bravissimo Di Costanzo a deviare il calcio d'angolo, Nardò vicinissimo al gol con Rescio. Corner per il Nardò, che è in terzo consecutivo. Rescio di tacco, stava quasi per sorprendere Di Costanzo, ma ancora un calcio d'angolo per il Nardò, battuto, palla in area, mischia poi di testa ancora il Nardò, il Pomigliano spazza.